Presidente Manzana, reputa di coinvolgere altre organizzazioni territoriali attorno al quotidiano ILTI per rafforzarne il peso editoriale? Certamente, mi verrebbe da dire che nella compagine della fondazione noi vorremmo accogliere tutte le associazioni, tutte datoriali e altre associazioni che vogliono e sono interessate a partecipare a questa iniziativa, che reputiamo essere un'iniziativa culturale, non certamente soltanto una rappresentanza del mondo delle imprese, a noi interessa molto che sia un progetto di comunità, per cui la risposta sì, senz'altro. Nonostante il calo generalizzato in Italia delle vendite dei quotidiani in edicola, lei reputa che vi possano essere previsioni di crescita per la presenza nel territorio del nuovo giornale ILTI? E se sì, tramite quali innovazioni editoriali o strategie di marketing? Allora, intanto a noi preme il dibattito, cioè l'obiettivo della nostra proposizione è il dibattito, aprire un dibattito culturale, immaginarci di selezionare la nostra strada, una strada peculiare, per cui riteniamo che sì, ci possano essere degli spazi anche per questa nostra nuova iniziativa. E come? Diciamo che il giornale nasce multicanale, per cui siamo sulla carta, perché a mio modo di vedere serviva una certa credibilità. Oggi sul web troviamo, a mio dire, troppe troppe cose. Se uno compra un giornale di carta e trova croce Francesco, quella è una lettera di Papa Francesco, a meno che non abbia comperato un giornale satirico evidentemente, ma sul web non è così. Noi volevamo credibilità, solidità, un prodotto che necessariamente si ha anche evidentemente sul canale digitale, sul proprio sito e poi anche sui social inevitabilmente. Ecco che questo nascere multicanale lo fa essere, a mio modo di vedere, un qualcosa di adeguato ai tempi che stiamo vivendo. Credo che noi si possa anche trovare spazio. Noi abbiamo guardato, riguardato, rivisto e anche osservato, abbiamo visto che dal momento in cui è sparito il Trentino, non è che l'Adige ne abbia tratto grandissimi vantaggi. E questo, a mio modo di vedere, è un'indicazione del fatto che i nostri cittadini, i nostri concittadini amano confrontarsi e dibattere. Riteniamo che il nostro breakeven, a cui puntiamo o non puntiamo a fare certamente margini o cose mirabolanti, il breakeven sia raggiungibile, certamente non lo sarà facilmente raggiungibile, ma sia raggiungibile e possa dare un contributo a creare un movimento di opinione. Un partito dei sì, un'antitesi ai tweet, un'antitesi ai titoli che in qualche modo riempiono le nostre pagine, i nostri web, i nostri telefonini. Ecco, noi riteniamo che serva un momento di approfondimento e credo che su questo noi potremo ottenere gli spazi necessari per avere un equilibrio. Da lettore, quale anche lei è, le chiedo, quali sono le sue valutazioni circa il sistema informativo locale? Trova di qualità i prodotti editoriali locali delle tv, dei siti di news, dei giornali cartacei? E a suo avviso, ci sono ambiti che ancora il giornalismo trentino non affronta e sviluppa a pieno? È una domanda particolarmente complicata questa. Ecco, io credo che l'evoluzione della professione di giornalista non abbia seguito correttamente i tempi. Ho una mia idea rispetto al giornalismo fatto dai cittadini, dal fatto di avere un eco immediato su dei canali centinaia o addirittura decine o centinaia di migliaia di followers rispetto a dei pseudo opinion leader. Tutte queste informazioni non verificate, non verificabili, usualmente anche abbastanza tendenziose. Dobbiamo ricordarci che quando un prodotto è gratis, in realtà il prodotto siamo noi. Per cui io credo che la posizione del giornalista debba essere decisamente rivalutata, premiata e anche riconosciuta con la voglia di approfondire, di dibattere. Per cui in questo momento io mi sento di dire che noi viviamo in un contesto sufficientemente informato, come cittadini non approfondiamo a sufficienza, dobbiamo formarci delle idee, non abbiamo sufficientemente spazio per la scienza. Non esiste un'opinione sul Covid, sul Novax, sulla bretella ferroviaria di Trento. Esistono posizioni scientificamente accettabili e apprezzabili come non accettabili non apprezzabili. Per cui non stiamo parlando di etica, di morale, dove credo che una posizione pesi tanto quanto l'altra. Noi con il cercare di seguire l'audience, la diffusione, noi banalizziamo, noi dobbiamo tornare un filo indietro e abbiamo bisogno di approfondire, torno al ragionamento di prima. Ecco che allora l'informazione che abbiamo è sì, anche di qualità, ma noi volevamo con questa nostra iniziativa contribuire a questa qualità. Volevamo e proviamo ad essere un po' di lievito per questa nostra comunità. Tutto qua. Credo che sia veramente importante quella del dibattere, discutere di cose oggettive, reali, tangibili e definite, senza andar via per preconcetti o posizioni non verificate e non verificabili. Lei è un autorevole imprenditore apprezzato a livello nazionale e da poco presidente di una fondazione che ha espresso una società editrice. Può descrivere brevemente quali e quanti sforzi anche economici sorreggono alla gestione di una redazione di 20 giornalisti che confezionano un quotidiano in edicola e un sito online? Intanto i giornalisti sono 21, partiamo da lì. Credo per davvero che noi si debba arrivare, ci siamo dati questo 2023, per arrivare il break-even. Non esiste un'impresa che non abbia un elemento di sostenibilità anche economica. È nell'ISG, Environment Social Governance, e nel governance ci sta sicuramente anche l'ambito economico. Per cui al momento al momento noi abbiamo un prodotto, riteniamo che questo prodotto sia di qualità, dobbiamo ricercarci il nostro posizionamento economico. Questa è la sfida di questo 2023, di questi primi mesi del 2023. Noi stiamo pian pianino crescendo nelle vendite, troveremo il nostro spazio nel mercato pubblicitario, troveremo certamente, anche grazie alla forza dei nostri soci e dei soci della fondazione, un nostro posizionamento. Ecco, lo sforzo è notevole, nessuno si immaginava una passeggiata di salute, un qualche cosa in discesa, un qualcosa che si potesse portare a casa con uno schiocchio di dita. Però io ho trovato una compagine impegnata, seria, coesa, dibatte, però poi alla fine ad oggi c'è un'unanimità intorno a questa iniziativa e questa unanimità mi fa assolutamente guardare con sguardo positivo al nostro prossimo futuro.